Il presidente del Consiglio regionale Giuseppe Di Pangrazio ha partecipato alla prima edizione del premio Pasquale Pacilio che si è svolta nell'auditorium Petruzzi a Pescara. Il premio, istituito dal Corecom Abruzzo, intende celebrare la memoria di Pasquale Pacilio, storico giornalista abruzzese che ha contribuito alla nascita e alla diffusione delle prime TV private della nostra regione e, con l'occasione, valorizzare le professionalità e le nuove leve dell'informazione. Per ricordare la figura e la carriera del giornalista, interrogandosi sul valore strategico dell'informazione del territorio, è stata organizzata una tavola rotonda alla quale hanno partecipato il presidente del Corecom Abruzzo, Filippo Lucci, e i tre premiati. La studentessa Chiara Bonatti per la migliore tesi di laurea, Sergio Rizzo, vice direttore della Repubblica come giornalista e saggista di rilievo nazionale e antimo amore della RAI Abruzzo. Un gigante del pluralismo, sempre capace di interpretare le esigenze della comunicazione, è sempre primo nell'intuire e di intercettare la notizia, così Di Pangrazio ha definito Pasquale Pacilio. Nelle sue trasmissioni, ha sottolineato il presidente del Consiglio regionale, si ritracciava sempre l'intento di dare risposte alle reali esigenze della gente. Inoltre era anche uno straordinario anchorman che conduceva con sapienza, un pizzico di ironia, le sue trasmissioni di politica e costume.